Ahahahah Il natura e i negri hanno ben pochi nemici grazie a loro immensa forza con cui possono apporsi quasi tutti i possibili pregatori talvolta gli ispanici possono cacciare i cuccioli negri o anche le femmine ma è raro che possono avere la meglio su un maschio adulto la longevità è compresa da 30 e 40 anni nel ghetto e può arrivare a 90 anni Ahahahah 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 L'uso dei negri No, mi sta firmando L'uso dei negri Ahahahah Ahahahah Ahah